Noto, centottantesimo della Diocesi, Papa Francesco rivolge un messaggio augurale alla Chiesa Netina. In occasione del centottantesimo anniversario di fondazione della Diocesi di Noto, una gradita sorpresa arricchisce e rende ancora più solenne questo evento così importante per la Chiesa Netina. Messaggio augurale del Santo Padre, Papa Francesco, indirizzato dal Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Romeo. La lettera augurale recante la data del 2 maggio riempie di gioia e di onore la Diocesi Netina alla quale il Vescovo Salvatore ha voluto comunicare questa lieta notizia presso la casa del clero di Noto al termine dell'incontro di aggiornamento dei presbiteri della Diocesi. Il Santo Padre, rivolgendosi a Monsignor Romeo, estende il suo saluto alla comunità di Cesana, esultando tutti a fare memoria del passato, non per rimanervi intrappolati, ma per trovare in esso la forza di vivere il presente con coraggio e la capacità di guardare al futuro con speranza. Il Papa nel suo messaggio raccomanda inoltre che questo evento commemorativo possa stimolare l'itinerario di fede e di testimonianza evangelica, rilanciando l'impegno pastorale volto ad affrontare le molteplici forme di povertà presenti sul territorio, spendendovi con tenera possibilità e amore concreto in favore di quanti sono ai margini della società. Il Santo Padre infine ricorda come la Chiesa di Noto si arricca di testimoni del Vangelo, citando in particolare il venenabile Giorgio Lapira, come pure tanti sacerdoti che si sono prodigati per il Regno di Dio e con il loro esempio auspica un rinnovato cammino per la Diocesi, perché tutti diventino sempre più strumenti di bontà e di fraternità aperti al dialogo con tutti.